Adriano, fra un po' parte la tua attesa tournée, l'inizio lo vedremo a Scommettiamo che, solo l'inizio ovviamente. Cosa combinerai? Salirai su quel palcoscenico? Ah, cominciamo proprio così? No, è che non si può mai essere certi di niente, purtroppo, perché... Vedi come vanno... Come vanno che? Come vanno... No, come vanno... Ah, proprio come vanno così e basta? No, tanto senza... Canterai? Adesso, come faccio a dirtelo così, adesso esplicitamente? C'è sempre questo... questa cosa che circola... Ah, circola, continua a circolare. Bene, i giornalisti ci sono raccomandati, se devi fare qualche esternazione, visto che non si sa come è la scaletta, non si sa che cosa combinerai, se devi fare qualche esternazione, devi farla entro le dieci, in modo tale da poterla riprendere per domani, ma esternerai? Ah, proprio con ti... Allora, scusa, l'ultima domanda, canterai qualche classico? Sì, forse qualche classico, sì. A te che classico ti piacerebbe? Tanti, troppi. Spero che lì, azzurro, potrei continuare, una carezza in un pugno. Insomma, quello che combinerai lo potremo raccontare solo domani. Sì, tu, ecco, mi puoi fare un favore? Quando tu l'avrai visto stasera allo spettacolo, poi dopo mi fai una telefonata. Guarda, io mi piacerebbe molto sapere adesso cosa combinerai, comunque domani ne vi parleremo sicuramente. Sì, ciao. O no? Sicuro? Ah, vabbè, d'accordo.